E' chiaro che le prestazioni devono aiutare ad arrivare a quello, è quello l'unico obiettivo, a maggior ragione quando iniziano a mancare le partite dobbiamo a tutti i costi arrivare al nostro obiettivo. Quindi i miglioramenti che avevo detto a post gara erano orientati a quello perché la prestazione brutta che non mi era piaciuta a Imola che ci aveva portato a un risultato negativo abbiamo giocato meglio a Siena ma non è bastato. E' chiaro che dobbiamo fare qualcosa in più e lo possiamo fare se continuiamo a giocare sul campo nella maniera giusta, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con la nostra qualità cercando di fare ancora qualcosa in più per raggiungere l'obiettivo che è quello di fare dei punti. Io spero che tutti i tifosi e tutto lo stadio aiuti e solleciti la squadra per il bene del Teramo come tantissimi tifosi della curva hanno sempre fatto e incitato, come quelli che ci incitano dal primo al novantesimo in ogni trasferta. Spero che tutto lo stadio ci stia vicino, poi è chiaro che a fine partita il giudizio di ogni persona è giusto che venga espresso nel bene e nel male. La Lucchese è una squadra allenata da un allenatore, da uno staff che stimo molto perché è chiaro che hanno un'identità chiara sul campo. È una squadra estremamente solida, una squadra che gioca con grande intensità, che sul campo ha conoscenze e quando hai conoscenze chiaro vuol dire che il lavoro settimanale è fatto molto bene. È una squadra che nell'ultima mi sembra 14 o 15 partite ha perso due volte sole. Su 14 partite mi sembra che 10 volte non hanno subito gol. Quindi è una partita complicata, difficile. Ma la squadra era già arrabbiata. A fine partita hanno parlato dentro lo spogliatoio con forza, con la consapevolezza che se giochiamo così ne perdiamo poche. E' chiaro che poi quando giochiamo così non dobbiamo commettere delle sbavature pepegrizia, come abbiamo commesso. Cioè dobbiamo avere una visione che quando la palla ne hanno gli altri dobbiamo essere bravi a fiutare il pericolo, cosa che non abbiamo fatto nel primo gol. Ora le partite scarseggiano e come ho detto in precedenza ogni partita va interpretata come se fosse una finale e all'interno di una finale ogni pallone può essere quello decisivo nel bene e nel male. Questa deve essere l'interpretazione che ci accompagna sempre, ma è quello che chiede in ogni singola esercitazione ai ragazzi. Però io dal punto di vista mentale vedo la squadra consapevole. Quando c'è consapevolezza penso che la partita la possiamo fare, interpretare, al di là di quello che sarà il risultato che dobbiamo cercare con tutte le nostre forze.